La strana coppia tutte le mattine, ti fa caffè, ti porta giù dal letto, la sera prima eri uno strafatto, con due risate tornerà il perfetto. La strana coppia... ...di giorno a questo giorno... Da casa sua il tenore oggi com'è? Pijama, accappatoio, camicia... Patrick, come sei messo? Buongiorno ragazzi, no no, mi sono messo una magliettina rosa. Una magliettina rosa? No, no, pensate subito male. No, ma chi è che pensate? Ognuno è libero di fare quello che vuole, insomma. Io le magliettine rosa non me le sono mai messe, il mio collega di sicuro sì. Va bene, le sono messe, anzi poi la vedrete prossimamente sul video. Ecco, dei video tra l'altro dove Patrick dimostra che alla mattina, tutto live, lui al telefono canta veramente le canzoni. Sì, 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 uno dice, ma non è mica una cosa costruita, è una cosa dal vivo live. Allora, stamattina abbiamo una dedica d'amore molto particolare, una dedica per la mamma, e dice così. Buongiorno carissimi ragazzi mitici della mia radio preferita, grazie. Per favore, oggi compie gli anni la mia cara mamma, quindi mi piacerebbe che il grande tenore facesse questa dedica. Mamma, sei la più bella e importante persona che io ho. Grazie di esistere, ti vogliamo un mondo di bene. Simone e Stefania, beh, devo dire che tanto di cappello a questa... Mi unisco, mi unisco agli auguri e sicuramente mandiamo questi bellissimi auguri. Dai, che canzone ci piazzi stamattina, Patrick? Mamma, ne facciamo un pezzo dei Poo. Grande, grandissime. Vai con la base, vai, attenzione che parte, adesso lui si allontano del telefono. Sì, parte con la base. Ci siamo presi, ci siamo arresi. Stare senza di te, io no, stare senza di te non si può. Anche se poi qualche parte del cuore ci scoppia di dolore. Stare senza di te, io mai. Stare senza di te, io non potrei. Noi ci vogliamo e non mi ha colpa a nessuno. Oh no, aspettavamo l'accuto finale! La prossima, no, altra pure! Questi sono i Poo, questi sono i Poo, non la parocchi! Sì, ma porta pazienza, perché noi siamo anche ignoranti musicali oltretutto, quindi... Allora potrete vedere il video del live sul Facebook di Patrick Salati, della canzone che ha fatto rompere una finestra. Io voglio fare anche io un mio saluto, un grande saluto al signor Aklim d'Isola Verda. Ciao fratello! Ciao fratello! Ciao Patrick! Ciao! Ciao! Ciao!